Festa della mamma! In avvicinamento dobbiamo regalarle una rosa piena d'amore! Una rosa piena di amore! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta e dall'aiutante su Arte per Te! Festa della mamma in avvicinamento e io oggi vi propongo un video vecchio, vecchio, vecchio! Nel senso, l'argomento del video è un argomento visto e rivisto e proprio perché un argomento visto e rivisto non l'avevo mai trattato sul canale! Sono le rose con i pirottini di alluminio! Sicuramente molti di voi non le conoscono, ma per noi creativi diciamo che non sono proprio l'ultima novità! E allora perché le propongo? Perché siccome le devo fare per un mio lavoro, tanto vale condividere l'informazione insieme a voi! Non si sa mai ci fosse qualcuno che ancora non le sa fare, e io credo che sarà più di qualcuno, magari attraverso Arte per Te impara a farle! E allora basta cianciare, prendete i pirottini in alluminio e andiamoli a riciclare! Ed eccoci pronti a fare un utilizzo alternativo dei nostri pirottini, facendoli diventare uno splendido fiore da regalare magari proprio in occasione della festa della mamma! Cosa ci servono? Per ogni rosa 4 pirottini, pistola a caldo e stecche, forbici, pinza con punte tonde e poi io vorrò trasformare la mia rosa in qualcosa di utile per regalarla per la festa della mamma e quindi applicherò dietro un magnete e in modo da farla diventare una calamita, proprio perché l'alluminio è molto leggero, si presta molto bene a diventare una calamita perché il peso è veramente infinitesimale e bastano anche dei magnetini piccoli così, che comunque sono potentissimi! I miei pirottini, come vedete da questo che non ho pulito bene, sono del tutto riciclati, quindi tu via! Ma questo quindi è un progetto vero e proprio di riciclo Vi farò vedere anche una variante colorata e per quella ci servirà qualche vecchio smalto da riciclare Servirà anche un pochino di carta stagnola per il nucleo centrale Va bene, cominciamo subito Benissimo, come prima cosa Benissimo, come prima cosa prendiamo della carta stagnola e facciamo una fissura fissima, 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 fissima pallina Schiacciatela più che potete perché deve, su questa bisognerà montare tutto il nostro fiore e datele una forma un po' a bulbo, un po' ad arancino Ad arancino è così meglio Mettiamo da parte questo Adesso prendiamo il nostro pirottino Io per rispetto nei vostri confronti ne userò uno nuovo perché non mi piace farvi vedere cose usate in video Prendiamo i nostri quattro pirottini e togliamo il bordo Abbiate cura non ci si taglia, però potrebbe essere un po' tagliente l'alluminio quindi state un pochino attenti Adesso tagliamo facciamo sei sezioni così e in tutti i pirottini facciamo questo lavoro uno, due uno, due vi conviene tagliare a croce così sarete sicuramente più precisi quindi fatto questo adesso modelliamo questi tagli che sono quadrati facendoli un po' tondeggianti così su tutti e quattro i pirottini a questo punto prendiamo la nostra pinza e piano piano e soprattutto sezione dopo sezione pieghiamo così all'infuori vedete i nostri petalini nella parte sommitale e anche un po' nella parte laterale quindi io lo prendo leggermente lo pizzico e lo giro lo pizzico e lo giro fatto il primo tagliamo per mezzo centimetro la base del primo pirottino così e togliamo gli altri mettiamo un punto di colla a caldo al centro e fissiamo dentro il nostro centrale adesso fissiamo i primi tre petali sulla parte centrale metto un punto di colla e chiudo il primo petalo ne salto uno prendo quello successivo quindi uno sì e uno no e lo accosto voilà salto il petalo successivo prendo quello dopo se non mi piace come è piegato avendoli sott'occhio uno per uno li posso rivedere attacco quello dopo ancora così dando un andamento abbastanza avvolgente ci siamo al mio bocciolo eccolo qua attenti a non bruciarvi l'alluminio e un conduttore e adesso accosto gli altri tre petali quindi un punto di colla e uno un altro punto di colla e due un altro punto di colla e tre ovviamente poi con le mani possiamo modellare la base per stringerla un po' e per renderla più aggraziata tanto questa non si vedrà ma il nostro bocciolo sta prendendo forma e continuo a piegare i margini di tutti i petali di tutti e tre i pirottini che poi assemblerò uno di seguito all'altro in pratica i movimenti che dovete fare sono tre su ogni fiore tre su ogni petalo uno nel laterale sinistro uno al centro in alto e uno nel laterale destro tutti girando verso l'esterno ok arrivati a questo punto assembliamo il primo vi consiglio di tagliarlo per tre millimetri in dentro alla base così in modo che sia meno profondo dell'altro il taglio ma comunque risulti ancora bello avvolgente che si possa chiudere attorno al nucleo in pratica una spruzzatona di colla a caldo quindi ad uno ad uno accostiamo i petali sovrapponendoli vedete ho messo il primo il secondo lo sovrappongo leggermente così al primo il terzo al secondo e via dicendo in modo che l'andamento a corolla che si schiude piano piano non venga meno tipico delle rose no? ultimo petalo del secondo giro accostiamolo ed è fatta per adesso della forma non preoccupiamoci molto perché dopo poi schiuderemo leggermente i petali voilà andiamo con il terzo giro colla al centro e boom e qui basterà veramente chiudere attorno a quelli precedenti e la rosa verrà da sé un po' di colla a caldo e adesso l'ultimo step come vedete io faccio in modo sempre che la congiunzione dei due petali sia in pratica corrispondente alla centralità del petalo del giro successivo per intenderci due petali che si congiungono e sopra questo faccio asciugare bene l'ultimo dei miei giri e piano piano faccio aderire le foglioline la nostra rosa sarebbe pronta ma prima di definirla tale sistemiamo il giro dei petali allargandolo leggermente quindi facendo in modo che i petali sboccino un po' metto il dito dietro così e con la pinza li tiro in fuori dando loro una sorta di movimento e lo faccio e lo faccio ovviamente piano piano con tutto il lavoro ed eccola qui bella e sbocciata la nostra rosa d'argento adesso per farla diventare una stupenda veramente stupenda elegantissima calamita applico sul retro il magnete voilà e una volta applicato il magnete lei è pronta per adornare il frigorifero le nostre tolettine gli specchietti in bagno quello che vi pare potete comunque usarle per avvelire scatoline qualunque cosa confezioni regalo ora vi faccio vedere come dipingere con lo smalto qualora voleste farla smaltata ok prendiamo uno smalto che ci piace o anche più smalti che ci piacciono se vogliamo dare delle diverse gradazioni di colore magari e come fosse una manicure cominciamo a smaltare il nostro fiore senza stare troppo a perderci tempo sporco un po' con un colore un po' più più scuro che poi faccio fondere sino alla parte così più alta in modo da creare vedete questa sorta di screziatura del petalo e lascio asciugare completamente faccio naturalmente questo su tutti i petali andando via via a rischiarare ovviamente anche il nucleo centrale andrà dipinto e ovviamente molto grossolanamente non ci stiamo a perdere le ore ok arrivati a questo punto pirottini totalmente asciutti facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con le altre roselline quindi prendiamo e arrotoliamo vedrete che a meno che lo smalto che avete usato è proprio scarsissimo ma anche in quel caso sarà facilissimo piegare senza scalfire la verniciatura quindi andate tranquilli perché sull'alluminio lo smalto prende molto meglio che non sulle unghie punto di colla al centro fissiamo il nostro nucleo e voilà adesso lascio asciugare un attimino apro bene con la pinza i petali che voglio che si aprano come al solito con calma se voglio sistemo anche il retro pitturandolo assolutamente facoltativa anche questa parte anche perché a seconda di dove voi dobbiate applicarle per esempio su una scatola o su un cestino magari il retro neanche si vede oppure volete lasciare il retro così in alluminio per far capire come sono fatte le vostre roselline insomma decidete voi in caso sappiate che il lavoro da fare è questo è che se all'interno non vi piace che si veda qualcosa tipo così basterà andare a insinuarvi tre petali e a camuffare il colore dell'alluminio le nostre roselline sono sbocciate delicatamente sotto i vostri occhi per la felicità di mammina adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo ciao visto che bella questa rosa e quante quante sfumature può assumere a seconda dei colori con cui andrete a dipingerla una rosa durevole e bellissima sia naturale in colore argento che dipinta nelle mille sfumature che vorrete dare lei e allora io spero che la mia interpretazione di queste rose vi sia piaciuta fate vostre le mie idee e fatele diventare vostre abbellendole con la vostra creatività e con la vostra fantasia create un giardino riciclato in alluminio e postatemelo sulla mia pagina facebook in modo che i miei occhi e gli occhi di tutti possano goderne vi lascio il link della mia pagina facebook proprio qua sotto nel box informazioni lì troverete anche il link del canale Ombretta dove vi aspetto per parlare liberamente dell'universo femminile e del mio canale insieme a Gabriele 2 Cuore 1 K dove ci divertiamo a cucinare e a farci quattro risate con quel sagace di Gabriele naturalmente Enzino mi ricorda che c'è anche Potitois il nuovo arrivato del canale nella famiglia il canale di Enzo dove si tratta di giocatto i giocattoli che Enzo vi fa vedere in tutto il suo splendore nel suo canale allora bene tutti i link che mi riguardano ritrovate nel box informazione qualcuno anche qui insieme ad altri video nella i col pallino vi lascio tutta la playlist dei fiori creati su arte per te fiori con tutti i materiali da riciclo divertitevi a creare un bel pensiero per la vostra mamma auguri a tutte le mamme vi voglio bene e mi voglio bene mi stimo e mi incoraggio stimo e mi incoraggio facendo mia questa frase del mitico Capitan Ventosa e stimo e mi incoraggio tutte le mamme a proseguire così nella loro meravigliosa strada questo è un nostro piccolo pensierino creativo per tutte voi basta parlare andate a creare da ombretta e da arte per te è tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao